Nonostante l'aumento dei contagi, l'ospedale San Luca si appresta a superare Ferragosto senza particolari criticità sul fronte Covid. I ricoverati affetti da coronavirus sono una ventina, un numero praticamente stabile ormai da circa 10 giorni. Ricordiamo che nel picco della terza ondata all'ospedale di Lucca si raggiunsero i 120 posti Covid occupati. Inoltre, rispetto ai mesi scorsi, si è abbassata l'età media dei ricoverati, come ci conferma il responsabile di malattie infettive, Sauro Lucchi. I pazienti attualmente ricoverati hanno nella maggior parte dei casi un'età fra i 40 e i 65 anni. Ci sono poi anche alcuni pazienti più anziani, ma diciamo che nella maggior parte dei casi questa è l'età più colpita. Questi soggetti molto spesso sono stati contagiati in ambito familiare e in particolare dai figli più giovani che hanno contratto l'infezione, soprattutto in vacanza. E cosa dobbiamo aspettarci nell'immediato futuro? Il virus continuerà a circolare, ma più la campagna vaccinale va avanti, meno possibilità avrà di provocare gravi danni alle persone e all'efficienza del sistema sanitario. Quello che penso ci dovremo aspettare è un numero limitato di soggetti che accedono alle strutture sanitarie perché o non vaccinati o perché non vaccinati completamente come quello che sta accadendo oggi per i pazienti ricoverati ottalmente al San Luca e in questa situazione credo che potremo continuare a garantire i livelli assistenziali anche per tutte le altre patologie. Grazie.